Abbiamo un giudizio e una valutazione differente sui contenuti della legge di bilancio. Noi diamo una valutazione articolata, nel senso che ci sono misure e provvedimenti che noi condividiamo. Pensiamo al fatto che la manovra destina due terzi della dotazione finanziaria complessiva a dare continuità e a consolidare le misure di sostegno a famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati, imprese costretti a fronteggiare questa escalation dei prezzi energetici e dell'aumento dei beni alimentari. A questi provvedimenti che consideriamo positivi si aggiungono elementi che non ci sentiamo assolutamente di condividere ed è la ragione per la quale stiamo chiedendo in queste ore al Governo e ai gruppi parlamentari di migliorare e cambiare il profilo della legge di bilancio. Su questi argomenti il Governo ha dato piena disponibilità a confrontarsi e a dialogare con il sindacato. E' anche questa la ragione per la quale pensiamo sia sbagliato bruciare le relazioni sindacali e trasferire le tensioni nei luoghi di lavoro. Grazie! Grazie!